Siamo gli ultimi prima di pranzo, avremo il ruolo di tenervi svegli e interessati a questa tematica. Chi di voi, facciamo un giro di mano, giusto per fare un sondaggio, ha già, non vale, non ho chiesto ancora la domanda. Chi è che ha già visto, installato, usato IBM Same Time? Vediamo. Ormai la maggior parte di voi. Chi di voi l'ha usato con un sistema di telefonia? Integrato con un sistema telefonico. Meno male, diciamo. Meno male, immagino che siete nel posto giusto, no? E chi invece l'ha integrato con un sistema di videoconferenza? Qualche mano in più. Ok, perfetto. Vi ringrazio prima di tutto per essere qui oggi con me, Andrea Di Donato. Lascio che lui si presenti, ci dica qualcosa della sua azienda. Sì, io rappresento Logos Technology, è un IBM Business Partner da tanti anni e personalmente compio il 17esimo anno in cui lavoro con Tecnologie Lotus e oggi qui sono però nello specifico per dimostrare l'integrazione tra Same Time, Standard e un centralino open source nell'accezione dell'utilizzo del Suite Lite, che è una componente nuova che è uscita nell'ultima versione. Questo è quanto. Io mi chiamo Gian Campitelli, potete vedere già dal nome, sono mezzo italiano e half American, ma ormai sono dal 99 che sono in Italia, perciò mastico un po' anche l'italiano. Voglio dirvi che è un onore per me essere qua oggi, perché finalmente riusciamo a presentare una platea fedelizzata, visto che avete già tutti utilizzato Same Time, quello che può essere il valore aggiunto di un'integrazione e di un'estensione dei valori di base che tutti noi conosciamo all'interno dell'infrastruttura di Unified Communication, IBM. Perciò andando avanti, l'agenda che vorremmo svolgere con voi oggi è questa, cioè andare a capire qual è la panoramica generale, tutti voi avete alzato la mano, perciò sarò molto veloce in quest'area qua, di cosa fa Same Time e quali sono le funzionalità voce e video che sono già integrati nel pacchetto Same Time Standard. Poi da lì capire quali soluzioni esistono sul mercato oggi per estendere queste funzionalità, grazie a alcuni eventi che sono stati presenti anche qui oggi, che hanno presentato le loro soluzioni in terze parti, e poi di vedere effettivamente come si può integrare Same Time a tutti gli effetti e rendere Same Time il vostro dispositivo per fare anche comunicazione, comunicazione verso i telefoni, gli oggetti che tutti noi hanno in tasca. Perciò voi sapete che in Italia siamo quelli che hanno più cellulari per pro capita, perciò ci distinguiamo. Quando voi siete entrati in quest'aula ho visto che avete tutti un aggeggio da mettere sotto controllo, a bada, perciò noi siamo quelli che tipicamente abbiamo più numeri telefonici di qualsiasi paese d'Europa, non so se è una cosa di cui dobbiamo vantarci o meno. Quello che noi stiamo cercando di proporre oggi è il fatto che questi numeri telefonici dovrebbero ridursi a uno solo, perché attraverso i servizi di Same Time e Same Time Unified Telephony, grazie alla possibilità di avere un numero unico, di poter dirottare poi le nostre commande su tutti i dispositivi che noi abbiamo a disposizione, lo si può fare. Ed è un po' questo di cui vogliamo parlare oggi, la tematica di base. Vi va bene così? Ok? Allora, prima di tutto vorrei farvi notare che già da Same Time, cioè col Same Time Standard, non con l'entry che è un entitlement che tutti i nostri clienti che hanno Lotus Notes e Domino già hanno il Same Time Entry, molti non lo sanno, però per fare chat e presenza tutti voi che siete già clienti Lotus Notes, fidelizzati, avete già la possibilità di fare chat e presenza. Con il Same Time Standard invece avete la possibilità invece di fare cosa? Di sfruttare le nuove funzionalità del Same Time 8.5, la parte di media manager, cioè poter convogliare e veicolare non solo la vostra voce ma anche la vostra immagine perciò fare cosa? Fare delle cose tipo chiamate audio, chiamate video, ok? Con i vostri interlocutori, naturalmente queste persone devono essere censite all'interno dell'infrastruttura Same Time. Questo può essere molto utile per un'azienda o dove hanno dei collaboratori che sono geograficamente distribuiti sul territorio o che sono in giro in mobilità, che usano dispositivi per esempio come questo per poter collaborare e rimanere in contatto e condividere le loro informazioni. La cosa importante per noi è capire che le funzionalità di Same Time come voi le conoscete sono queste. Direttamente dal client Same Time io posso selezionare qualsiasi utente o più utenti e convogliarli all'interno di una comunicazione. Questa comunicazione può essere di diverse tipologie, può essere una chat tradizionale banale, in questo caso invito le persone e loro si collegano a una chat, una volta che sono in chat li posso salutare, poi da lì posso scalare la comunicazione, non è più una comunicazione testuale o di condivisione di schermo, di testo eccetera, ma posso far sì che questo diventi una comunicazione anche audio. Se ho bisogno di chiamare queste persone, parlarci direttamente, voi sapete che delle volte è molto più efficiente parlare che scrivere, in questo momento io sto facendo questa escalation e sto facendo una chiamata multipla a più punti. Questo si può fare grazie a Same Time. Mi sentite ragazzi? Siete tutti collegati? Pronto? Ok, se vi metto in viva voce magari adesso sentite pure. Io sto usando un banale telefono USB collegato a Same Time e attraverso questa chiamata io posso far sì che le persone che sono collegate alle infrastrutture a Same Time ci possono chiamare e si possono parlare tra di loro. Ok, a qualsiasi momento io posso riprendere la chiamata, metterla in attesa eccetera. Mi sentite? Magari se avevo un microfono qua lo metto vicino a me. Ecco adesso c'è l'effetto Larsen, dovete scusarmi però. Queste persone sono tutte in chiamata e sto usando e sfruttando il media manager di Same Time per poter fare questo. Al momento io potrei anche scalare ulteriormente questa comunicazione andando a un video, diciamo un video switched video, dove noi riusciamo a vedere in contemporanea tutte le persone che sono al momento collegate. Questo lo possiamo fare grazie al media manager di Same Time, perciò se io mi metto, Andrea si è già messo in tutto. Adesso posso sentire Marco, posso sentire Marina. Mi dite voi che cosa ne pensate? Forse molti di voi conoscono già Marina e Marco tu vuoi dirci qualcosa? Non so se ti sentirei bene, ti sentiamo e ti vediamo bene direi. Adesso non so se switcherà su di me in tempo, comunque non vi perdete assolutamente nulla. Conoscete già Marco come è fatto. Ok, queste sono le funzionalità. Grazie ragazzi, vi metto giù e ci sentiamo poi verso la fine per la parte ulteriore di dimostrazione. Grazie, a dopo. Ciao. Ok, queste sono le funzionalità diciamo di base che noi abbiamo già nel prodotto che molti di voi conoscono e perché lo utilizzano. Quanti di voi usano l'audio e il video all'interno di Same Time oggi? Vediamo. Sono molto meno di quelli che inizialmente hanno detto che usavano Same Time, perciò questo già può essere una buona ragione per capire come mai o può essere anche un modo di capire come andare avanti. Voi sapete che Same Time nelle sue ultime, scusate, nelle sue ultime release ha cambiato di architettura ed ha aggiunto dei componenti aggiuntivi per poter sviluppare e prendere la parte audio e video e renderla fruibile. Perciò questi sono i componenti che sono aggiuntivi. Molti di voi che avevano conosciuto Same Time nel passato erano abituati alla parte di community che girava su un server domino. Adesso invece con la nuova infrastruttura abbiamo aggiunto un nuovo server che gira su WebSphere che è la parte di meetings che gestisce tutta la parte di web meeting e di meeting online. Tutta la parte di media manager che gestisce poi, come vedremo in futuro, tutti i collegamenti audio e video sia all'interno di Same Time ma anche verso l'esterno. Perciò tutti i collegamenti verso degli end point che possono collegarsi al sistema Same Time verranno gestiti attraverso il media manager. Perciò questo è molto importante che l'architettura del Same Time si è arricchita con gli anni e ha reso disponibili nuove funzionalità che precedentemente non esistevano. Quello che noi vogliamo sottolineare oggi è che ci sono varie soluzioni disponibili e tra di queste naturalmente è importante capire che ci sono scelte da fare, dipende dalle funzionalità chiave che voi siete interessati a utilizzare, a sfruttare, ci sono varie possibilità. Quelle dei plug-in è quella che storicamente è più conosciuta perché i partner che sono sul mercato, che fanno telefonia, che fanno videoconferenza per natura, hanno tutti sfruttato questa apertura dell'ecosistema di Same Time per sviluppare dei plug-in che davano la possibilità di estendere funzionalità audio e video native di Same Time verso altri sistemi sia telefonici, come abbiamo visto stamattina con la presentazione di Dexgate con il loro centralino, sia sistemi di videoconferenza tipo quelli di Polycom, di Thumbag, di Radvision eccetera. Questo diciamo è quello più conosciuto, quello dei plug-in. Quello che abbiamo fatto a giugno dell'anno scorso abbiamo introdotto la funzionalità SUT Lite, SUT non è un nome molto felice perché si pensa che abbia a che fare con la telefonia perché sta per Same Time Unified Telefoni, ma non è solo telefonia. Questo qua da la possibilità di collegare via SIP e poi Andrea ci spiegherà in dettaglio che cosa vuole dire SIP e cosa vuol dire SIP Trunking, cioè un modo di collegare in fascio, diciamo, verso dei sistemi esterni che parlano a un protocollo aperto tipo SIP. Perciò alcuni esempi di integrazione di questo tipo sono stati fatti da Cisco, sono stati fatti anche da tutti i centralini che ormai sono IP-based, che sono disponibili sul mercato. Infine abbiamo sviluppato da IBM con, diciamo, l'apporto di tecnologia che abbiamo preso in OIM da Siemens, una terza categoria di prodotto che si chiama Same Time Unified Telefoni Full, che non è altro che un aggregatore di funzionalità aggiuntive che si possono utilizzare per integrare i sistemi telefonici. Perciò quando vediamo questi prodotti che sono disponibili da terze parti, naturalmente hanno delle funzionalità basi che vengono utilizzate per integrare i sistemi telefonici, i centralini sia analogici che digitali, sia i sistemi di videoconferenze esistenti sul mercato. Quello che abbiamo visto stamattina nella presentazione precedente, non so chi di voi era lì, è un esempio clou dove dentro Same Time, grazie al fatto che ci possono installare e configurare dei plugin aggiuntivi, si può andare a controllare un centralino esterno. Questo l'ha fatto Dexgate, l'ha fatto Cisco, l'ha fatto Alcatel, l'ha fatto Shortel, eccetera, tutti i maggiori venditori telefonici hanno creato dei plugin per poter andare a controllare direttamente da Same Time i loro centralini. L'altra cosa che abbiamo visto è proprio l'integrazione via questo acronimo qua su che è impronunciabile che è Telephony Comferencing Service Provider Interface, o TCS in italiano. Questo dà la possibilità di collegare degli adattatori non più lato client, con i plugin che avevo illustrato precedentemente, ma via server. Lato server, attraverso questo API, è un software development kit che i vendor possono sfruttare per poter integrarsi con noi, si può collegare a un sistema telefonico via Voice Bridge, oppure via sistemi di videoconferenza attraverso il Video Bridge. Alcuni degli esempi li ho messi qua giusto per vostra conoscenza, perché ovviamente troviamo sul territorio italiano nel mercato sistemi eterogeni che hanno sia sistemi Cisco, perciò il partner che ho citato qua, iLink è un partner tedesco che fa questa tipologia di integrazione, oppure Polycom, questo è un altro nostro partner che ha integrato via TCSPI e via SIP il loro mondo di videoconferenza, telepresence e anche desktop video con il mondo same time. Chi fosse interessato a questo, io il 3 di luglio ho un webinar proprio su questo argomento, qua se è grato, perciò faccio un punto pubblicitario per questo. Altra è Radvision, che è stata acquisita recentemente da Havaia, perciò tutte le soluzioni che avevano il brand in Italia di Aetra, vi ricordate, che erano state comprate da Radvision, a sua volta sono stati comprati da Havaia, perciò c'è anche una soluzione di questo tipo che dà la possibilità di integrare sia via SIP sia via TCSPI il mondo same time con il mondo di videoconferenza. Ultimo ma non meno importante è il fatto che via questa integrazione SIP, come dicevo prima, si può collegare attraverso un SIP trunk qualsiasi sistema di videoconferenza o qualsiasi sistema telefonico. Questo mi dà la possibilità poi di fare cosa? Di collegare il mio media manager, quel componente aggiuntivo dell'architettura same time, direttamente via SIP a cosa? A un PBX tradizionale, IP, un PBX analogico di vecchio stampo attraverso un gateway, attraverso un SIP trunk esterno verso un provider internet, di cui Andrea vi parlerà più tardi, un video MCU, oppure un sistema di telefonia, un PBX tradizionale o un servizio di voice conferencing. Mi ha aperto tutta una nuova serie di opportunità che precedentemente non avevo all'interno della mia infrastruttura. Questo dà la possibilità naturalmente di utilizzare il SIP Lite, che è a tutti gli effetti una licenza aggiuntiva sopra al same time standard, che dà la possibilità di utilizzare il vostro softphone interno al same time, perché a tutti gli effetti abbiamo introdotto un softphone SIP based all'interno di same time, e vi dà la possibilità di, senza hardware aggiuntivo, perché è un SIP trunk diretto verso il vostro centralino o il vostro MCU, e dà la possibilità di chiamare e ricevere telefonate direttamente all'interno del vostro client same time. Perciò attraverso il SIP Lite si possono fare chiamate verso l'esterno, verso qualsiasi dispositivo che abbia un indirizzo SIP. Perciò un SIP URI, un IVOCO, io posso chiamarlo e se ci sono le rotte predefinite a livello di media manager, lo posso raggiungere. Questo mi dà la possibilità di fare le chiamate direttamente dal quick find, quassù, o direttamente da una rubrica same time che ho all'interno del sistema, o addirittura da un dial pad, perché non tutti sono abituati a utilizzare la rubrica o i nomi delle persone per fare le chiamate, però effettivamente è molto utile perché se switcho di qua potete vedere effettivamente che io le chiamate le posso fare direttamente facendo una chiamata direttamente da same time, oppure posso andare qua su e mettere un numero di telefono qualunque, per esempio un numero 33 eccetera, mi va a vedere tutte le chiamate che ho fatto in passato, me le propone e posso fare una chiamata direttamente in questa maniera, oppure volendo ho una rubrica a disposizione all'interno del client same time che mi dà la possibilità di prendere qualsiasi interno, qualsiasi nominativo che ho all'interno della mia rubrica, schiacciare sopra e dire chiama e questo automaticamente fa passare la chiamata, in questo momento sto chiamando la sala in cui mi trovo in questo momento, se rispondo alla chiamata voi vedete ci sarà l'effetto Larsen, però effettivamente via same time, metti giù, ho fatto una chiamata verso l'esterno, poi vedremo come quando arriviamo alla parte di Andrea, perciò andiamo avanti, quali sono i benefici di questo? Naturalmente potete ben capire che questo pc o questo dispositivo mobile può essere in qualsiasi parte del mondo, non devo essere più legato alla mia schivania, non ho solo il mio interno al mio posto di lavoro fisso, ma lo posso portare in mobilità come in qualsiasi momento, in qualsiasi posto io mi trovo. Rende possibile la partecipazione a sessioni audio, come queste telefoniche che vi ho appena illustrato, o delle sessioni video, se fosse collegato in MCU, abbiamo alcune dimostrazioni che possiamo farvi dopo questa sessione, perché per mancanza di tempo non la facciamo per vedere tutte, ho la possibilità di collegarmi sia a ambienti telefonici sia ad ambienti di videoconferenza. Ho messo qua una chart giusto per farvi capire quali sono i vendor con cui noi abbiamo già certificato questa soluzione, questa lista è molto corta mi direte, in effetti è vero, perché mancano per esempio Asterisk che stiamo facendo vedere oggi e mancano tanti altri centralini che esistono sul mercato italiano, che probabilmente non vedete qua nella lista. Stiamo cercando in tutti i modi di sveltire il set di certificazione per poter portare sul mercato soluzioni anche di altri vendor che non vedete qua sull'elenco. Però non è importante, questo è solo un bollino, noi abbiamo già provato il suit light con il septrunk verso altri centralini anche proprietari e hanno funzionato immediatamente. Posso menzionare alcuni nomi, però è importante che voi capiate che una volta che uno parla a un protocollo standard, tipicamente quando si collegano questi due ambienti, il same time, il same time di terza parte che parla SIP, a tutti gli effetti abbiamo questo connubio. L'ultimo componente è quello del suit, che è mirato verso una fascia medio alta, tipicamente in Italia i clienti che hanno visto suit si sono subito spaventati perché richiede tutta un'infrastruttura qua di back end diciamo abbastanza pesante, che il suit light non serve, perciò diciamo il nome leggero, perché nella soluzione precedente non c'è questa componente. Col suit full, quello intero invece, si aggiunge una componente di back end che fa da aggregatore verso i centralini sottostanti e dà la possibilità di offrire dei servizi aggiuntivi. Per esempio, che differenza c'è? Beh, una delle differenze è che noi abbiamo la possibilità di definire il numero unico, quello che dicevo prima, possibilità di essere chiamato al numero unico e poi di di rottare la chiamata secondo il dispositivo che io preferisco. Ho la possibilità di essere notificato, ho la possibilità di avere un'esperienza molto più intuitiva grazie a questo elemento di back end diciamo. Altra cosa che volevo sottolineare è che ormai nella famiglia same time ci sono varie prodotte e varie soluzioni a vostra disposizione, ognuno ha un costo aggiuntivo, il same time manager ce l'hanno tutti i commentari, tutti i clienti loro snotso e domino, è già incluso nella licenza. Il same time standard è un upgrade dall'entrio allo standard, naturalmente c'è un costo aggiuntivo per il same time unified telephony light e c'è un costo aggiuntivo per il same time unified telephony full. Queste sono le quattro, diciamo, categorie della famiglia same time. Per capire meglio quali sono le funzionalità del suit light e del suit full ho messo un paio di carta, giusto per farvi capire quali sono le differenze tra le due soluzioni e effettivamente questa è quella che piace a tutti quelli che piacciono le tabelline riempire i function feature matrix. Comunque qua capite effettivamente da same time base standard, da same time più un plugin di terza parte, il suit light e il suit full, quale sono le funzionalità che io posso sfruttare secondo il prodotto della famiglia che io decido di acquisire. Adesso ho messo qua alcuni scenari giusto per farvi capire perché io vorrei fare questa integrazione e che vantaggi ho. Magari alcuni di voi si trovano in alcuni di questi scenari e possono abilitare o agevolare la scelta del componente da utilizzare e da sfruttare. A questo punto passerei la parola ad Andrea perché mi sembra importante adesso capire per capire il suit light e come funziona questo step trunk e avere dei concetti di base. Perciò passo ad Andrea la parola. Grazie John. Il mio ruolo è essere un po' più tecnico, più nel dettaglio e comunque sia vi consentirò di andare a mangiare in un'area decente, questo ve lo prometto. Quanti di voi conoscono il protocollo SIP? O ne hanno sentito parlare? Abbastanza. Molti usavano SendTime, SendTime 8.5 utilizzate almeno diciamo o parliamo di versioni antecedenti? Quanti di 8.5 utilizzano? Quasi tutti quanti, perfetto. Allora, il mio scopo è di introdurre un po' la tematica del protocollo anche se molti di voi la conosco. Sostanzialmente il SIP è un protocollo di controllo, quindi mi consente di controllare le comunicazioni tra due sistemi che si vogliono parlare. È stato standardizzato ormai da parecchi anni, l'ultima versione ha almeno dieci anni, quindi è un protocollo abbastanza stabile e di fatto opera per dare queste funzionalità insieme ad altri protocolli. L'RTP è uno di quelli più importanti che in realtà è un protocollo che è quello che poi consente i messaggi di fonia e di video di transitare e anche il session definition protocol è un altro protocollo importante perché consente durante la fase di handshake di determinare quali sono le funzionalità che io posso utilizzare, quindi la banda disponibile, se ho audio, se ho video e quant'altro. Quindi sono protocolli che nel loro complesso mi fanno funzionare la telefonia VoIP. Ho fatto questo piccolo parallelismo un po' banale, però di fatto è come il vecchio centralista, quindi riceve una richiesta di chiamata dall'utente finale, lo mette in comunicazione con un altro, però poi diciamo non è lì presente per far funzionare il tutto, le persone parlano tra di loro, però è sempre in ascolto, quindi se qualcuno vuole terminare la chiamata, fare un'altra cosa è sempre disponibile, quindi un po' è un operatore ovviamente digitale, ma il concetto è esattamente lo stesso. Come dicevo prima, questo protocollo ormai è molto stabile del 2002, che funzioni in base che mi dà? Mi dà innanzitutto dove si trova fisicamente l'utente, fisicamente dal punto di vista dell'IP ovviamente, perché parliamo di soft phone, parliamo di software, anche di hard phone, ma sostanzialmente di apparati che stanno in rete e che hanno genericamente un indirizzo sempre dinamico, quindi vi consente di registrare l'utente e dire dove si trova. Mi dice anche che disponibilità l'utente, cioè se è occupato, se non è occupato, quindi se è disponibile a intravenzione, le capacità di intendere dell'utente e non di volere, nel senso che sono, la conversione diciamo di capability inglese, però ecco appunto che tipo di strumenti ha a disposizione quel endpoint per poter comunicare su una comunicazione multimedia e ovviamente poi di fare le basi, quindi instaurare una connessione, fare una chiamata sostanzialmente, abbattere e quant'altro, oppure di trasferirla altrove, quindi questo protocollo di controllo mi consente queste funzioni di base, quindi con queste 4 righe posso gestire una comunicazione telefonica o anche video. Formalmente come è fatto questo protocollo? Chi conosce l'HTTP troverà delle similitudini molto importanti, abbiamo una prima riga di intestazione che mi dice esattamente qual è l'azione che voglio fare, tutte le risorse sono indicate da una URI ben precisa, che è lo schema che è il SIP o SIP sicuro, utente password che spesso non sono utilizzati, perché questo è un formalismo anche dell'HTTP che non vengono utilizzati, chioccio l'host a cui voglio rivolgermi, eventualmente quale porta, anche se ci sono delle porte standard, ovviamente nei setup dei vari, è possibile cambiarle. 5060 e 50661 sono le porte default in chiaro e crittografata, username l'ho detto, e comunque è molto simile all'HTTP, quindi di fatto trovate parecchi elementi uguali. Chi si parla nel protocollo SIP degli user agent? Sono differenziati in client e server perché si determina il modo in cui viene installata la comunicazione, non è un client server statico, nel senso che un telefono può essere un client in un momento ma può essere un server in un secondo momento, ad esempio quando io intravenendo una comunicazione, un client, cioè un endpoint fatta client, quindi intravenendo una comunicazione, quando però poi gli viene, diciamo, riceve una chiamata, in quel caso fa da server perché viene contattato dall'esterno. Quindi lo user agent viene differenziato da queste due modalità. Il proxy server è di fatto un intermediario come tutti quanti i proxy, quindi è la risorsa a cui mi rivolgo, uno user agent si rivolge per effettuare una funzionalità. La cosa importante è che può rafforzare policy, quindi può bloccare l'utente per fare certe cose e soprattutto vedremo in futuro, nella presentazione, che può modificare le intestazioni perché in questo caso ci farà molto comodo poter dirottare le chiamate in un certo modo. Il registra spesso coincide con il proxy, di fatto è l'entità alla quale un utente si regista, quindi dai eventualmente il username e passo del proprio interno telefonico e dice a quale IP si trova. Di fatto consente al registra di ottenere la mappa di utenti con quel momento attivi sul sistema. I gateway sono spesso utilizzati, ad esempio noi anche noi lo utilizziamo in azienda perché abbiamo delle linee telefoniche preesistenti, SDN, quindi vogliamo poter convertire questo protocollo completamente basato su IP su linee a PSTN, diciamo POTS, quelle più vecchie, piuttosto che digitali. Quindi sono gli elementi di base in cui vengono scambiati i messaggi SIP. Quali sono i verbi, i metodi che posso fare? Quindi uno user agent o cosa può fare? Registrare abbiamo detto, quindi sono presente a questo IP, posso invitare una controparte a una conversazione ed ovviamente anche dire che tipo di conversazione, telefonica, audio e quant'altro. Posso ricevere degli acknowledge se io utilizzo un protocollo UDP piuttosto che TCP perché l'UDP non fornisce di fatto questo tipo di affidabilità. Posso cancellare una richiesta che è pendente, posso interrompere una sessione che però è in essere, quindi io ho già, la controparte mi ha risposto, con vai io attacco la cornetta. Option oppure posso soltanto interrogare un apparato e dire questo apparato che tipo di comunicazione potrebbe fornirmi e magari fornire un menu contestuale a un utente in base alle capacità che ci sono sull'utente. Quindi mi fa comparire videoconferenza se si sa che la controparte ha una videocamera in quel momento. Cosa mi aspetto in risposta? HTTP, ripeto, sempre la stessa salsa. Provisione, quindi la richiesta è stata recepita, è anche formalmente corretta però ci sono dei passi da fare ancora. Per esempio io sto contattando l'utente. 6200, la connessione è andata a buon fine, il comando che ho fatto è andata a buon fine. 6300, l'utente che ha intrapreso la connessione deve fare una cosa ulteriore, tipicamente è una redirezione, così come nell'HTTP. Client error si intende che la richiesta che io ho formulato è sbagliata. Normalmente qua ricadono gli errori 401 e 407 che sono utente non autorizzato, quindi non sono sarei passati delle credenziali corrette. Errori 500, la richiesta che ha fatto il client è positiva, è fatta bene, formalmente corretta però il server o è andato in errore o non ha risorse per poterla gestire. E 600 in realtà è global failico ma è un miscellaneo, sono tutta una serie di casistiche che non rientano in queste qua, bisogna andarsi a vedere poi il singolo codice come viene spiegato. Piccolo diagramma di interazione per capire come si parlano i componenti. Abbiamo un user agent, client in questo caso, che cosa fa? All'inizio si registra senza credenziali presso un registrar, il quale visto che è impostato per ricevere delle credenziali risponde 407 non si è autenticato, non si è autorizzato perché non mi ha fornito credenziali valide. In questo caso il client riprende la stessa connessione indicando delle credenziali e risponde, il server gli risponde ok da questo momento in poi sei registrato. Tenendo conto che questo processo spesso avviene in maniera ricorrente dei telefoni, i telefoni spesso si registrano nel tempo perché poi possono cambiare indirizzo, quindi è un processo che in una rete telefonica avviene più volte questo, che non avviene soltanto quando accendo il telefono. Scenario leggermente più complesso, faccio una telefonata, in questo caso un chiamante che usa il metodo invite per andare a parlare con una controparte, però lo fa attraverso un proxy. Quindi il proxy determina se la richiesta è valida, la destinazione è valida, se la controparte c'è quant'altro. Quindi la prima cosa che fa è ok ci sto provando, quindi la tua richiesta è formalmente corretta, però adesso devo fare io del lavoro. In questo caso a sua volta il proxy ripete lo stesso comando verso il chiamato, il chiamato a questo punto pure capisce la richiesta è formalmente corretta e in aggiunta successivamente, quindi in questo caso diventa lui il server in questo caso, dice anche che sta squillando il telefono. Il telefono squilla, squilla, a un certo punto qualcuno risponde, ovviamente questo messaggio viene riportato al chiamante perché deve sentire nella cornetta che la controparte sta squillando, quando viene alzata la cornetta, quindi la connessione è stabilita, il messaggio è ok, viene propagato al chiamante, viene mandata una cronologia finale se si parla di UDP e a questo punto però, qui la figura non è fatta molto bene, questa freccetta non c'è più, la connessione, il protocolo avviene direttamente dagli end point, quindi il proxy in quel momento, come la centralista di una volta, non entra più nel colloquio, è chiaro che se l'utente vuole agganciare la telefonata, fare altre cose, in quel caso rientra in gioco il proxy. Ora qui c'è una serie di slide abbastanza tecniche, non vorrei tediarvi più di tanto, soltanto per chi è un po' più addetto alle cose, farvi vedere che, come fatto il messaggio registro, c'è un verbo là sopra, c'è una URI, quindi una destinazione, mi sto registrando questa destinazione, chi sono, come l'indirizzo di posta elettronica, no? C'è un display name e un indirizzo ben preciso, quindi quale numero telefonico c'è e a quale proxy sono registrato, che tipo di messaggio sono in grado di ricevere, no? E ovviamente in questo caso non è utilizzata la formula utente due punti passo, adesso l'indirizzo è un meccanismo un po' più sicuro che è il digest, per cui sono scambiati in modo criptografato ovviamente le credenziali. Risposta del registrar, 200, ok. Gli entrambi i pacchetti hanno contenuto a zero, perché c'è soltanto la parte di interessazione in questo caso, ok? Vediamo una chiamata, ho detto, vado molto veloce perché se siete interessati poi ovviamente lo possiamo vedere insieme, però magari non tutta la platea vuole andare in questione di dettaglio. invito una controparte, quindi faccio una telefonata sostanzialmente, tutte le comunicazioni hanno chiaramente un identifico della chiamata e del tipo di traffico che si sta scambiando, la cosa che voglio farvi vedere è questo qua, che all'interno del pacchetto, in questo caso non finisce con l'intestazione, c'è un content type di tipo session definition protocol, nel quale in maniera abbastanza grezza ma efficace vengono detti le caratteristiche, cioè io vorrei entrare una chiamata telefonica, quindi il media di tipo audio e ti do questa possibilità, ho tutti questi codec disponibili, tra cui questo PCA ha 8000 campionamenti al secondo e in più i telephone event, i telephone event sono banalmente la possibilità durante la telefonata anche di digitare i tasti, il touch dial, per avere funzioni aggiuntive, quindi ci parliamo in audio su questa frequenza, diciamo, con questa frequenza di campionamento e di fatto posso poi anche interagire con la tastiera telefonica. Qui sono quelle che abbiamo visto nel schema, ci sto provando, sta squillando, non ci sono ovviamente pacchetti importanti perché sono soltanto in testazioni, a questo punto mi torna l'ok, cioè la controparte ha accettato la mia telefonata e ovviamente cosa mi dice? Di nuovo un session definition protocol, dal menu che tu mi hai dato di possibilità, io ho estratto soltanto queste due tipologie, quindi ci parleremo ma a queste condizioni, quindi una piccola undershaking che viene fatta, quindi chi chiama propone una lista di possibilità e il ricevente o la rifiuta ovviamente se non è in grado, oppure definisce una volta per tutte quali sono le caratteristiche. A questo punto la chiamata comincia, parte in realtà in protocol e le entità si parlano. Finito con la parte un po' più di età, vi passo adesso del SIP trunk, cos'è il SIP trunk? Anche qui è un concetto che già esiste nella telefonia da tantissimi anni, è un fascio logico di cavi, quindi la possibilità di avere un numero anche alto di connessioni tra due sistemi, tra uno user agent e un altro, e in questo caso ha dei grossi vantaggi rispetto alla funia normale, forse molti di voi si ricordano i famosi fasci a 2 megabit che erano fatti da 32 canali di SDN di cui uno utilizzato per il controllo e 31 erano le linee che effettivamente erano disponibili. Nel momento in cui mi serviva la 32esima linea, ero costretto ad ordinare un altro fascio a 32 megabit, altre schede da mettere nel mio sistema, quindi era un po' poco gestibile l'upgrade. Invece in questo caso, parlando tutto quanto in IP, sono vincolato soltanto dalla banda passante che ho disponibile. Anzi, la sfrutto è meglio perché qualcuno durante una telefonata magari pensa a una cosa per qualche secondo, in quel secondo passano tante altre informazioni che una telefonata risonale non sarebbe potuta passare, quindi è ottimizzata da questo punto di vista. Il vantaggio che si è installato via IP ovviamente mi consente una ridondanza, a parte l'ultimo miglio ovviamente, ma insomma tipicamente la rete IP mi consente questo tipo di facilitazione. La cosa molto importante è che si possa abbattimento dei costi, quindi se io do telefonare qui da Milano a New York è probabile che possa arrivare via IP fino alla centrale telefonica più vicina e poi da lì viene fatta la tratta, diciamo, su telefonia tradizionale che magari pago soltanto quella, quindi i sistemi intelligenti possono terminare la rotta meno costosa sostanzialmente per raggiungere una destinazione. Ovviamente se la controparte ha un telefono IP neanche pago, no? Le chiamate IP classiche e a questo caso pure è facile aggiornarle, non devo comprare un altro fascio, faccio un nuovo contratto con il provider o semplicemente a momento la banda passante che ho disponibile. Quindi il SIP trunk dà parecchi vantaggi rispetto alla telefonia normale. Molti provider al giorno d'oggi forniscono già queste possibilità, quindi acquisto da un internet, telefoni, service provider, un trunk SIP logico e definisco quanta banda piuttosto quante conversazioni contemporanee, però in questo modo mi posso muovere in maniera molto agevole per poterli ampliare. Due secondi di Asterisk, chi conosce Asterisk? Ah, pensavo di più. Asterisk è un centralino open source, in realtà nasce con un sistema di comunicazione proprietario, però ovviamente da parecchi anni si è adeguato allo standard SIP e in effetti è nel mondo open source quello più utilizzato. È molto maturo perché ripeto molti anni che c'è sul mercato, effettivamente è un po' criptico nella configurazione perché come tutti i sistemi open è basato su file di configurazione che chi è tecnico ci sguazza dentro, gli altri poveracci stanno a guardare e per questo siamo venuti nel mercato delle cui evolute che in effetti rappresentano non solo graficamente ma anche semplificano i concetti e le rendono più simili alla telefonia che conosciamo in modo che configurarli diventa molto semplice, infatti ovviamente noi abbiamo utilizzato questa strada senza perdere troppo tempo. Ovviamente è disponibile come virtual appliance, quindi anche qua mi scarico la ISO piuttosto che una macchina virtuale, la posso mettere in piedi in pochissimo tempo. A questo punto abbiamo fatto questa panoramica sul SIP, molti di voi la conoscevano, però adesso non so se sono andato troppo nel dettaglio ma abbiamo capito quali sono gli elementi che sono in gioco durante una comunicazione VoIP. Vediamo un po' a vedere come noi abbiamo realizzato utilizzando SendTime, Suite Lite e Asterisk per metterli in comunicazione e abbiamo questa possibilità appunto da questa versione. Un ambiente demo piuttosto elementare, una macchina Linux su cui sono installate tutte le componenti di SendTime, quindi il community server che è quello basato su Domino che tutti quanti penso conoscete da parecchio tempo. La system console che è un nuovo componente che serve a monitorare e gestire completamente basata sul deploy manager di WebSphere e la parte che ci consente di utilizzare la parte di fonia, il media manager, che in realtà a sua volta è composto da altri componenti che sono il SIP proxy registrar, il packet switcher, sono tutte le serie di componenti che servono a far funzionare la parte di realtà in protocol. E una seconda macchina dove c'è una installazione di FreePBX che è una di quelle interfacce che vi dicevo prima, basata su SendOS, un sistema open source. Come client abbiamo il mio pc e quello di John, non so se anche l'iPad, insomma abbiamo un po' di clienti collegati per fare delle prove. Certo. Assolutamente sì, a patto di un free report, questo è facilmente eliminabile. quella macchina in realtà, non so quanti giga abbiamo, ci sono parecchi server qua sopra già. Io so che ho un discorso diciamo di scelta così, diciamo di semplicità, però tecnicamente è possibile che siano sulla stessa macchina fisica. Allora Asterisk, ci sono alcune distribuzioni disponibili però non è esattamente il suo humus naturale diciamo. Sicuramente Linux è preferibile. Anche perché dovendo trattare in realtà il time, alcuni meccanismi di Linux lo aiutano da questo punto di vista. Alcune comunicazioni vanno fatte veramente a livello quasi di interrupt e quindi questo Linux riesce ad essere più efficiente. Mentre per ovviamente IBM e SendTime abbiamo una scelta un po' più ampia di piattaforme. esistono anche degli appliance fisici perché di fatto come ho detto prima, questo qui può essere una macchina virtuale però poi per connettersi alla rete telefonica normale o un'azienda ha un gateway presso di lei, la situazione che abbiamo noi, abbiamo comprato un piccolo apparato che si collega con la rete Ethernet e poi ha un numero di schede di SDN variabile a secondo del costo oppure utilizza direttamente poi una tranca verso un provider esterno quindi lavora tutto quanto su IP insomma. Ci sono anche ripetito degli appliance fisici che hanno sia il software Linux e tutto Asterisk dentro più le schede telefoniche che servono a connettersi sia all'esterno ma volendo anche degli interni analogici perché qualche cliente vuole ancora che ci sia il telefono veramente da tradizionale, il sirio diciamo di qualche anno fa o il fax esattamente bravo. Quindi effettivamente da questo punto di vista ci sono delle ampie possibilità di scelta su come implementarla. Sì sì è chiaro che Asterisk tende a parlare con un apparato SIP diciamo no? VoIP SIP. Quindi o il fax effettivamente fa questo oppure dobbiamo prendere un adattatore per Asterisk tale che converta di fatto il protocollo SIP in un protocollo diciamo a jack rj11 insomma. Quindi sono un fax tradizionale diciamo no? Esistono degli adattatori che si attaccano da una parte alla rete e dall'altra parte esce la presetta del telefono molto elementari che sono compatibili con Asterisk e mi consentono di collocare una spostazione tradizionale dove ci sia vicino un punto di rete. Probabilmente ci saranno anche wireless proprio per esagerare insomma a metterlo ovunque però sostanzialmente si passa da IP a cavo telefonico con questi adattatori. Allora qui ho cercato di riassumere uno schema il flusso dei dati che sta all'interno di Asterisk utilizzando la terminologia di FreePBX perché poi ogni GUI ha scelto la sua terminologia. Cosa abbiamo? Un service provider, message netto nello specifico, non faccio pubblicità, non credo, non lo so, comunque sia. Un provider X ACME qualsiasi che mi dà un servizio di telefonia over IP. Devo dichiarare all'interno di Asterisk un SIP trunk, quindi una connessione a livello IP tra la macchina Asterisk e il provider. Ovviamente in questo caso mi dovrò autenticare perché il provider poi vuole i soldi quindi dovrò capire chi è a debitare ovviamente per le telefonate e quindi questo tipo di trunk sarà autenticato. Qui stiamo simulando una connessione telefonica entrante dalla rete pubblica. Telefono tradizionale, non smartphone, quindi telefono all'interno. Il trunk a questo punto invia la telefonata e si è dichiarata una inbound route, cioè vuol dire che se arriva una telefonata e ha un certo numero chiamato, a questo punto passo questa chiamata a un risponditore intelligente. Poi adesso vedremo nel dettaglio queste cose. Il risponditore cosa fa? O mi consente di digitare un interno telefonico oppure dopo un time out che ho impostato va a lanciare un gruppo di squillo, che non sono le squillo che voi pensate, fa squillare contemporaneamente una serie di telefoni perché se qualcuno non ha digitato l'interno voluto a questo punto squilla i telefoni e qualcuno dovrà rispondere. Qui c'è un altro time out, se nessuno risponde la chiamata viene chiamata in un loop infinito di una risponditore perché questa persona qualcuno gliela risponde, o se no a un certo punto c'era il telefono disperato. Durante la fase di riconoscimento, diciamo, della chiamata è possibile digitare un numero che è censito nella directory. Nella directory abbiamo sia gli utenti del centralino nativi di Asterisk che vedremo dopo, abbiamo anche gli utenti Sutlite che stanno sul same time. Quindi in questa fase posso digitare o un interno di Asterisk piuttosto che un interno di Sutlite. Quando l'IVR ha ricevuto questa chiamata, sa che viene digitato, ad esempio, un numero di same time e questo numero ha un identificato ben preciso e viene girato tramite una rotta di uscita verso il trunk che ci porta al sistema di same time. Adesso vediamo passo passo questa cosa, se ce la facciamo. Allora, questa è la GUI di FreePBX, questa è la definizione di un interno telefonico che si chiama extension, in termine, anche Asterisk che si chiama extension. Qui c'è un display name, quindi il nome che verrà visualizzato quando chiamo. Questo che è l'interno telefonico 2001. Qui sono due dati importanti che ho sottolineato. Il contesto è un concetto di Asterisk che consente che apparati che stanno nello stesso contesto sono gestiti in maniera molto più semplice, quindi possono chiamarsi da di loro, possono mettere le regole a fattore comune. Quindi frame interna, voglio dire, una chiamata assolutamente interna e l'ostro da cui può prevenire è dinamico, perché abbiamo detto prima che un interno telefonico tipicamente ha un indirizzo IP dinamico, dovrebbe averlo anche fisso, ma io posso a livello di sicurezza definire che questo interno può collegarsi soltanto da un certo indirizzo, oppure mettere la clausola dinamica e quindi come tutti quanti i clienti di HCP si può collegare. Scusate. Questo è il trunk che abbiamo visto all'inizio in alto, questo qui è il trunk verso il provider. Che cosa c'è scritto? C'è scritto qua, in questo caso, qual è il numero telefonico in uscita, quando esco, e ci sono qua alcune informazioni che mi dicono a quale host connettervi, su quale porta, la password che non è visualizzata e qual è l'utente che viene utilizzato. Questa, diciamo, stringa di registrazione consente a questo provider di far sì che quando le chiamate sono entranti, compariranno come numero chiamato questo qui, 530263, per chi non vede, penso tutti quanti. In questo caso io ho definito una rotta, diciamo, una connessione tra asterisk e questo host. SIP.message.net dichiarando chi sono e anche qual è il numero telefonico per cui adesso voglio essere chiamato perché magari ho più numeri telefonici. Questo qui invece è la rotta in entrata. Quindi ho detto che quando riceverò una telefonata da questo provider e il numero chiamato è questo qui, quindi qualunque cosa ci sta a sinistra è questo numero qui, questa rotta viene presa in considerazione, quindi è un filtro questo qua. Cosa fa questa rotta? Vi lascio vedere tutti i parametri che sono un po' noiosi, soprattutto cosa fa? Deve essere girata all'Ivr, quel componente che stava al centro della figura prima. Quindi questa chiamata, se diretta a questo numero entrante, deve essere girata al sistema di rispondimento automatico. Questo qui è la definizione di questo Ivr. L'Ivr semplicemente cosa fa? Definisce un nome logico, un annuncio audio, perché è bello potersi sentire qualcuno che risponde quando squilla il telefono e consente di fare chiamate dirette, quindi di comporre il numero mentre si sta sentendo l'annuncio, fino a un timeout di 8 secondi. Quindi quando io farò questa telefonata risponde questo, risponde l'automatico, suonerà questo annuncio che può essere chiaramente un file audio qualunque, dice il numero dell'azienda, qualunque cosa, aspetta 8 secondi che qualcuno dici di un utente che sta in questa directory. Ok? Se dopo 8 secondi non è successo nulla, allora va a ring group, gruppo di chiamata, come ho detto prima. Ed ecco il gruppo di chiamata. Il chiamata è anche qui un nome di fantasia, la ring strategy in questo caso è tutti i telefoni che non squillare, posso far squillare un telefono per volta, hunt group, posso far squillare soltanto quelli che sono liberi, posso fare una serie di strategie, e qua è l'elenco dei gruppi, perdono, delle estensioni che io voglio far squillare. La cosa importante da sottolineare qua è che gli interni che iniziano con la serie 2000 sono interni nativi di Asterisk, diciamo, si profondano collegati ad Asterisk. Questi che abbiamo col 6000 invece sono utenti sotto, che hanno una notazione particolare. Però questo mi consente una cosa molto interessante, di far squillare contemporaneamente sia il telefono che va magari sulla scrivania, o un softphone qualunque, che è il telefono che ho sul same time. Quindi sono alla mia postazione di lavoro, squilla il telefono dell'azienda, posso rispondere alla same time, in questo modo, questo è una cosa molto importante. Ciclo finale, se questo qui non va a buon fine, dopo 20 secondi torna l'Ivr, quella freccetta che abbiamo visto che girava, ok? Questa è la dialetto che dicevo prima, quali numeri posso comporre durante l'Ivr, posso comporre, si vede mai, insomma, quelli classici che sono in grigio, che sono di Asterisk, in più ho aggiunto le utenze, i softphone di same time. Questa invece è una rotta in uscita, cioè quando da io Asterisk sto lasciando il mio sistema per andare o verso l'esterno, ma in questo caso soprattutto verso same time, la parte di zip proxy. quindi è una rotta in uscita che mi dice, tutte le volte che compone un numero che inizia con il 6, girolo al trunk, quindi al fascio, che si chiama sut trunk, che adesso andiamo a vedere. Questo qui è il trunk, invece la tratta quella che va verso same time. Nome sempre di fantasia e qua ci sono i parametri per raggiungere same time, un po' come prima con message, no? Cioè l'indirizzo IP, la porta, sicurezza e la cosa importante è il contesto from interna, perché abbiamo detto così, io vedo come unico insieme logico sia i telefoni interni della vita che le estensioni, diciamo, i softphone di same time. E con la parte, diciamo, di Asterisk e abbiamo a fine, quindi questo qui è come abbiamo configurato Asterisk, mediante la GUI che si chiama FreePBX, per ottenere questo schema. Faccio entrante, se il numero chiamato è quello lì, lo giro all'IVR, l'IVR aspetta 8 secondi, che qualcuno digiti qualcosa che sta su questa directory, se non lo viene fatto, ringruppo, scrivono tutti quanti i telefoni, se nessuno risponde torno nuovamente all'IVR e così via. Se invece in questo caso digito tipo l'interno 6001, che è un interno di same time, allora viene innescata la rotta di uscita che dice tutti i numeri chiamati che iniziano col 6, mandala sul trunk che si chiama suttrank, che va a collegarsi con same time. Allora, questo è quello che abbiamo fatto su Asterisk. Cosa dobbiamo fare su same time? Non moltissime cose. Dalla nuova versione appunto è disponibile questa funzionalità su tutelite, che va innanzitutto abilitata, quindi a livello di media manager, sulla configurazione di same time, se tutti quanti avete visto l'8.5 sapete che c'è una console di web sfia dove andarla a settare, adesso non vado in questo dettaglio, e abilitando questo flag abilitata la funzionalità e c'è scritto anche ovviamente, riconoscere il fatto che c'è insomma un accordo di licenza perché questa cosa è a pagamento. Molto basso, mi dicono, ma è a pagamento. A questo punto, avendo l'abilità a livello globale, però posso ovviamente indicare quali utenti hanno diritto ad utilizzare questa funzionalità e questo ovviamente è un discorso che riguarda le policy. Quindi a livello di policy c'è un nuovo flag che dice se questo utente, questo gruppo, insomma, in base alla policy che ho definito, è in grado di utilizzare queste capacità di utilizzare la parte sutelite, in sostanza. Vanno fatti anche risultati di sicurezza, ma li abbiamo fatti soltanto perché è un ambiente di demo, in ambiente, diciamo, di produzione è importante che invece non vengano fatte, quindi consentiamo registrazioni anonime, quindi il fatto che il telefono di sutelite si registri in modo anonimo, salviamo ovviamente la configurazione, togliamo la sicurezza perché in genere il softphone di collega in TLS in modo grittografato, l'abbiamo messo in maniera, diciamo, in chiaro, facciamo ripartire il media manager perché tutte le volte che facciamo una configurazione di server relativo e poi andiamo anche a abilitare sulla sicurezza di web sphere il modo in cui questi sutelite si autenticano. Quindi andiamo sulla sicurezza sul repository e l'edapp, in questo caso che è un domino, e aggiungiamo che è possibile anche identitarsi con il numero di telefono, oltre che col classico mail, common name, user id. Vado veloce su questo punto perché la configurazione in realtà è spiegata molto bene dalla documentazione IBM, però adesso dai caposaldi, insomma, di questa configurazione. Devo ovviamente mettere poi il numero telefonico dell'utente sulla l-edapp, in questo caso è domino, insomma, qualunque l-edapp a cui si attesta Poison Time deve avere il campo telephone number valorizzato correttamente, simile d'identico. Altri componenti utilizza, sempre la parte meeting utilizza la email come sistema di autenticazione, quindi devo assicurarmi che sia valorizzato anche il campo di mail e che sia univo, come dice il mio amico John. E oltretutto questo andrà a vedere poi su quale porte sono in ascolto la componente SIP di SendTime, perché adesso dovremmo definire i trunk su Asterisk che siano coerenti con queste porte. Quindi quando dico Asterisk, come collegarsi a SendTime? dobbiamo dire di lost name, ovviamente su quale porte si collegano. Deve verificare. A questo punto dobbiamo anche cambiare un pochettino come funziona il proxy di SendTime, perché dobbiamo fare in modo che le chiamate dirette all'esterno della telefonia di SendTime vadano girate da Asterisk, quindi dobbiamo intercettare sostanzialmente questo tipo di cosa. In questo caso si definiscono delle regole, così deve definire regole, nelle quali si dice se il metodo SIP è in byte, quindi si sta facendo una chiamata telefonica, e questo qui è una chiamata entrante, chiedo scusa, quindi se mi stanno invitando dall'esterno, quindi Asterisk mi sta invitando verso SendTime, e il mittente è l'IP di Asterisk, in questo caso io quello che faccio sostanzialmente è cambiare l'indirizzo di destinazione e metto quello di SendTime, quindi una chiamata che è arrivata su Asterisk, che aveva il suo indirizzo, viene girata a me tramite il trunk, però a questo punto io devo rimetterla in questo modo, perché poi il SIP light debba riparlare necessariamente con il SendTime proxy, quindi devo sostanzialmente modificare l'intestazione. Discorso al contrario, quando un telefono SIP vuole fare una chiamata verso Asterisk o anche verso l'esterno, io devo sempre intercettare il metodo invite, in questo caso si fa in modo un po' diverso, si va a capire qual è il numero che è chiamato, qui forse siete un po' meglio, esatto, con questa regola d'expression catturo in una variabile qual è il numero del chiamato, e vado a riscrivere in questo caso l'intestazione dicendo che con dollaro 1 viene sostituito il valore del chiamante, ma ci metto con indirizzo quello di SendTime, quindi quando io sto uscendo richiamo ovviamente l'IP e ci metto quello di SendTime come destinazione, quindi devo modificare le rotte entrante in quel modo per cambiare il mittente dell'IP da SendTime a quello di Asterisk con SendTime e uscente devo fare la cosa inversa praticamente. Con queste due regole io ho fatto in modo che i telefoni SUT di SendTime vengono diciamo intercettati durante le richieste di invito delle chiamate per essere dirottati diciamo sul sistema di Asterisk con meno. Ovviamente anche qua bisogna fare i partiti del serve dopo queste informazioni, però ecco questo qui è la sintesi diciamo delle due regole che sono state messe per far funzionare questa cosa. E a questo punto cuocere a fuoco lento, nel senso che vi facciamo vedere che questa cosa speriamo... Allora, che cosa facciamo adesso come verifica? Abbiamo un SendTime client che utilizza il virtual appresist, il protocollo diciamo legacy di SendTime verso il conference manager, utilizza il SIP verso il proxy register e di fatto poi abbiamo alcuni telefoni soft phone che si collegano ad Asterisk che tramite questo SIP trunk che abbiamo definito ve li mettono in comunicazione. Come abbiamo sempre detto una volta che ci siamo scambiati tutti questi messaggi di controllo, alla fine della comunicazione avverrà direttamente tra i singoli device con il real-time protocol. Allora, interromperei quindi la dimostrazione, diciamo PowerPoint, per passare ai fatti. Allora, innanzitutto questo qui è l'interfaccia di FreePBX, in questo caso c'è un'applicazione che si chiama FOP, Flash Operator Panel, che sarebbe la vecchia serie di lampadine che stanno sui centralini che si vedete quali interni erano attivi e quali non erano attivi. Vedete questi qua, di quelli dichiarati, ce ne sono quattro che sono attivi. Abbiamo questi due trunk, quello verso il provider e quello verso SendTime, questa è la visione che ha Asterisk ovviamente. E poi abbiamo anche un'audioconferenza, perché una cosa interessante è che con Asterisk consentiamo anche a due utenti SendTime, ma anche in congiunzione con utenti Asterisk, di fare una conferenza audio, diciamo anche dall'esterno. Quindi questo qui è il pannello che ci fa vedere come stanno le cose. Allora, sulla mia macchina in realtà ha due tipi di client, quindi ho il SendTime Connect, che potrebbe essere anche quello che sta integrato dentro Lotus Notes ovviamente, che ha questa iconcina in più, che normalmente non avete visto se non avete mai cliccato il meccanismo di SendTime ogni fa i telefoni, quindi il touchpad per fare le telefonate, e di qua abbiamo invece un softphone che è collegato direttamente ad Asterisk. Quindi questo è un softphone collegato al proxy di SendTime, questo è un softphone collegato ad Asterisk. In questo caso chiamerei John, quindi io sono sulla mia utenza SendTime, John adesso è sul suo telefono softphone su Asterisk e lo voglio chiamare. Pronto? Pronto? Io ho pure il microfono, aspetta. Parlo, 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 parlo. L'ho già fatto molto male. L'ho già fatto molto male. A questo punto facciamo il viceversa. Tu sei sul tuo softphone e mi vuoi chiamare su SendTime. Ecco qua. Questa qui è la finanza 20 di SendTime. Mi sta chiamando, io ovviamente rispondo perché sono educato. Questo qui è il trunk, è l'interno di Asterisk che stiamo impegnato. Aggancio. Ok, a questo punto la videoconferenza, l'audioconferenza, pardon. L'audioconferenza ha un numero come se fosse un interno, che con grossa fantasia è 4 volte 2. Qui mi dice, ve lo dico io, state videoconferenza, digitate il PIN. A questo punto io faccio comparire la tastiera. Il PIN molto segreto è 1, 2, 3, 4. Sono in conference, sono l'unico partecipante. Ok. E sono collegato con un client SendTime. Adesso Giorno si collega con un client normale, diciamo, un client softphone. Se non è un'unico partecipante. Il PIN è un'unico partecipante. purtroppo l'effetto Larsen in questo demo è inevitabile però spero i concetti siano chiari quindi io da Sendtime e lui da un utente su Asterisk che ci siamo collegati a questa sala conferenze e possiamo fare una conferenza ovviamente anche un utente dall'esterno potrebbe chiamare con un telefono cellulare diciamo mettersi in questa conferenza e parli tutti quanti insieme quindi Asterisk sta facendo in questo caso il centaino per tutte e due sostanzialmente si sono collegati? adesso si stanno collegando l'ho chiesto a Marco di collegarsi ecco qua, tre partecipanti e anche Marco si è collegato ed è rosso qua sopra mi ha alzato il telefono e sta partecipando e man mano che si collegano all'Oleoconference tutti si possono sentire tra di loro naturalmente perciò questo lo abbiamo fatto sia da softphone sia da SameTime e una persona anche dall'esterno può chiamare tutti questo stesso bridge e sentirsi tra di loro adesso si è collegata anche Marina mi pare perché siamo in quattro in quest'Oleoconference aspetta che non... alzo un po' il volume... ma con SameTime se quelle gara quindi... ma con SameTime se quelle gara quindi... Marina ci sei anche tu? si si ci sentiamo io sento sempre inizio ok grazie scusa metto giù perché c'è un effetto lazio in quattro o se no si riattacchi tu agganciamo tutti quanti aggancia tu ok adesso ci dovrebbe essere meno effetto perché siamo solo io e Marco e Marina nella conference call mi sentite ancora? si adesso c'è solo Marco perché siamo io due sono io la pecorea nera man mano che le persone si scolleggono vediamo effettivamente adesso mi scollego anch'io e c'è rimasto solo Marco in co ok questo è l'effetto dell'Oleoconference ok a questo punto non ci rimane da far vedere l'interazione con il mondo esterno quindi telefonia tradizionale faccio una chiamata al mio cellulare al numero di telefonia fissa prova a mettere via la voce farà un macello incredibile potrebbe squillare e poi dire bis aspetta bis aspettiamo gli otto secondi è arrivata la chiamata su message net perciò dal set crank esterno che lui sta impegnando ecco qua e adesso abbiamo messo il ring group che fa squillare tutti gli interni tutti squillano gli interni in questo caso io posso rispondere da same time sono su same time rispondo Marco ha già risposto ha risposto perciò il primo che risponde prende la precedenza gli altri smettono di squillare infatti adesso dove stai parlando con Marco ok ok quindi questa è una chiamata entrante ad esempio poi una chiamata entrante posso fare la cosa diversa invece che aspettare che squilla voglio parlare direttamente con una persona quindi ricompongo il numero e mentre lui compone vedremo il message viene impegnato appena arriva la chiamata ecco è arrivata la chiamata ok mi hai detto il business manager è il digitale 6001 che è il mio interno 6001 in questo caso è dal mio cellulare direttamente ho chiamato all'interno same time quindi non aspettando che squillassero tutti quanti sono già all'interno e se rispondi? ovviamente se sono gentile e cortese mi rispondo ecco adesso vediamo che tutti e due i subprank sono impegnati era passato a same time la chiamata ok adesso c'è l'effetto e a questo punto io posso interagire internamente all'azienda con telefoni suit light con telefoni tradizionali SIP e con l'esterno chiamando numeri di telefonia mobile fissa e quant'altro ma anche indirizzando direttamente i singoli telefoni perché se conosco l'interno lo posso fare ovviamente è possibile anche avere per aziende più grandi di poter digitare sia il numero telefonico con l'interno incluso perché poi questo qui viene passato durante la telefonata e che io con le regole di inbound che abbiamo visto prima posso automaticamente far sì che non debba aspettare la vocina che mi dice il digitale numero faccio il numero tutto in un fiato e la parte finale viene presa e messa nelle regole e indirizzata diciamo all'utente specifico che possa essere sia same time che asterisk poi l'ultima prova chiedi a loro un numero di telefono se qualcuno cellulare facendo imbarba la privacy può dare il numero di cellulare facciamo in modo che da chi vuole fare la cavia nessuno si vuole se no mi chiamo da solo è giusto per per non cantarmela non c'è campo poi 3 4 0 3 4 ovviamente deve avere campo se no non va alla prova 7 si 14 15 si ben un miliardo questo numero ho messo il 9 davanti perché nelle regole abbiamo fatto in modo che per meglio chiarire quando da same time faccio una cavia verso l'esterno si fa il 9 così come per prendere la linea esterna ma questo qui assolutamente non è necessario non so devi dimostrarlo loro io ci credo diciamo rispondi 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 si sente bassissimo ma gli altri ok gli altri non ti sentiranno è troppo basso ok in sostanza penso che sia abbastanza credibile insomma in sostanza questo è fatto un po' di 7 di prove per vedere un po' tutte le possibili combinazioni quindi la flessibilità di Asterisk questo nuovo componente che sarà messo su same time questo suit light consente ad un'azienda anche piccola perché ripeto queste configurazioni sono molto semplici i costi di questa soluzione sono veramente bassi di comunque sia approcciare il mondo della telefonia IP e poterla integrare con i sistemi che ho già desktop e con same time se non ricordo mai non c'è null'altro si c'erano un paio di slide in fondo giusto per far vedere assolutamente un ambiente reale ah sì sì questo qui è l'ambiente della mia azienda siamo un po' più di persone non tantissime abbiamo parecchi trunk perché abbiamo linee diverse abbiamo una conferenza insomma perché è un ambiente reale fotografato insomma ieri se ovviamente volete approfondire questa tematica c'è moltissima documentazione anche ben fatta qui ci sono i link ovviamente la presentazione sarà disponibile quindi potete seguire i link tranquillamente e io sicuramente non so se Giona saremo disponibile io voglio fare solo uno spot pubblicitario per tutti i partner che sono qua oggi che faremo una sessione di approfondimento su tutta la parte same time non sulla parte supply ma sulla parte same time per chi ne avesse bisogno il 12 e 13 luglio qua al TEC di Segrate e con questo diciamo voglio ringraziare tutti voi per aver resistito fino adesso grazie vi ringrazio grazie grazie grazie